Il mese d'ottobre per noi è un mese particolare perché noi domenicani ogni anno rilanciamo il culto a Maria sotto il titolo della regina del rosario. Noi siamo custodi di questo modo di guardare a Maria e quindi ogni anno rilanciamo il mese del rosario. Quest'anno è un anno particolare perché ricordiamo il centenario delle apparizioni di Fatima. Perché è particolare? Perché a Fatima Maria si presentò come la regina del rosario. I pastorelli. Ecco perché non abbiamo voluto mettere questo titolo quest'anno alla predicazione perché ci sembrava corretto e anche bello. Anche solenne se vogliamo perché un'apparizione che certifica l'importanza del culto a lei sotto il titolo del rosario è qualcosa che in qualche modo ci certifica. Qui a San Domenico tutto il mese di ottobre noi celebreremo appunto questa predicazione attraverso le Eucharistie pomeridiane di tutti i giorni tranne i lunedì. Tutti i giorni noi alle 18 abbiamo una messa dove c'è una predicazione mariana al centro dell'Eucharistia. Un appuntamento diciamo da non perdere anche perché in un momento così difficile per il mondo avvicinarsi al culto forse potrebbe dare anche più sicurezza. Questo che lei dice è corretto perché noi notiamo come in questo momento di grande instabilità culturale, sociale, politica c'è un grande ritorno alla religiosità, alla religione, alla Chiesa. Perché l'uomo a un certo punto si trova probabilmente più spiazzato di prima e cerca dei punti fermi, dei punti certi. La Chiesa ovviamente è custode di questo mistero di rivelazione che appunto è il figlio Gesù Cristo che ci ha raccontato, ci ha fatto vedere chi è Dio. Ed ecco per questo che noi abbiamo tanta gente specialmente, questo è bello ricordarlo, specialmente giorno 1. Giorno 1, domenica 1, noi avremo la messa solenne alle 10.30 presieduta dal nostro arcivescovo, Cora Dolorefice, al termine della quale verrà recitata la supplica alla Madonna di Pompei. Questa supplica raccoglie tanta gente che un po' per tradizione, un po' perché sente, si raduna nella nostra Chiesa riempiendola, inneggiando e sollevando tramite Maria questa preghiera a Dio. La rivelazione di Fatima è legata strettamente al Rosario perché nell'ultima apparizione del 13 ottobre del 1917 la Madonna si rivela come la Madonna del Rosario. Però è da notare che in tutte le apparizioni, quelle riconosciute perlomeno, soprattutto l'URD, la Madonna si presenta con il Rosario in mano e l'apparizione avviene nell'ambito della preghiera del Rosario. Credo che sia una cosa molto importante, non soltanto dal punto di vista devozionale, che esprime certamente quello che è l'affetto, l'afflato spirituale dei fedeli, ma anche da un punto di vista dottrinale. Perché, come diceva il Cardinale Newman, il Rosario è il credo fatto preghiera. Grazie. Grazie. Grazie.